Siamo qua proprio per questo perché vogliamo sensibilizzare un pochettino anche l'opinione pubblica affinché comprenda bene quello che sta accadendo oggi in Italia. Perché oggi anche dal punto di vista politico vengono demonizzati tutti i vari sussidi che possono prendere le persone bisognose, che potrebbero avere bisogno, ma mentre invece la carenza del personale sia nel campo turistico alberghiero, stagionale e quindi anche agricolo, ma quindi anche in altri comparti, è semplicemente perché purtroppo i salari sono bassi. In materia di contrattazione, prima dell'estate si parla di otto ore a 1.400-1.500 per un cameriere, 1.800 per un cameriere. Poi dopo alla fine le ore non sono mai otto, il tour de force è molto pesante, non c'è un ricambio e poi a fine stagione purtroppo ci sono delle amare sorprese in quanto non vengono pagate alcune prestazioni. Ecco come per esempio alcuni imprenditori, tutti quanti oggi ne va al soluso di usare il contratto collettivo nazionale di lavoro, però praticamente dimenticano nelle voci i vari emolumenti che possono essere la maggiorazione domenicale, gli straordinari, che è una parola da abborrire, che fa virare l'orticaria a tutti, e vengono dimenticati tutti i vari emolumenti che devono essere pagati. Ecco per esempio per un cameriere che finisce alle 2 di notte la maggiorazione notturna non esiste.